mi ha messo un affarino qui, ma io vado nel culo all'affarino senta un po' ma l'ha trovati? eh, quel cosina ma ha camminato tanto? tanto, 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 tanti chilometri ho fatto tutti in salita, mai in discesa ma nelle scope c'è andato nelle stipe o no? nelle scope non ce la facevo perché se guardavo nel pulito tanto sapevo dove potevano essere però nelle scope bisogna avere la poteva ma a che ora è venuto lei? io alle 6 e in quarto ero laggiù dove c'è un po' era sempre, era sempre, insomma era sempre no, la cominciava al bicale, sei in quarto allora lo trovi due, meno male, due attacchi insieme ho detto tranquillo oggi si fa il pieno poi due coccoli, che c'è in rossi e poi su, su, 3, 4, 2 dopo, cazzo nulla, uno, uno, due ma non è tutto ma non è tutto